Signori miei, signori miei, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di Ludigassia come nuovo tecnico del Napoli. Prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a rimanere aggiornati perché, come già detto, commenteremo la quotidianità del Napoli, parleremo di temi adesso caldi, finalmente possiamo entrare più nello specifico nel mercato avendo un allenatore. Avendo delle linee guida anche da questa conferenza stampa, possiamo parlare della figura di Giuntoli, quando inizierà il ritiro, delle prime amichevoli, oltre poi ovviamente a commentare tutta la stagione. Quindi vi invito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace, a commentare questo video, a dire cosa ne pensate, se siete d'accordo, vi invito a commentare soprattutto se non siete d'accordo. Comunque, mi tengo qui rapido, con alcune impressioni, l'uomo mi ha convinto molto, l'uomo Garcià mi convince molto, penso che abbia capito come impattare in questa piazza, ovvero senza fare proclami inutili, non è venuto qui, tipo, non sono venuto qui a pettinare le bambole, facendo fomentare un po' tutti, poi fatto sta che chi prima di lui disse questa frase venne a pettinare le bambole, però comunque non facendo troppo opera di, non abbassando di troppo le aspettative, ma tenendo comunque uno spiraglio su quelle che sono le ambizioni di De Laurentiis, della società e soprattutto della squadra, ma anche sue, soprattutto sue. Adesso, poi tecnico-tattico, ovviamente non è che ho grandi intuizioni, non è che ho capito molto, perché non ci sono state molte domande, quasi zero, ma questo lo capiremo quando inizierà il ritiro, quando vedremo i primi allenamenti, ma soprattutto le prime amichevoli. Comunque, io mi sono segnato tutte le domande, con tutte le risposte, e adesso andremo ad analizzarle nel dettaglio. Partiamo dicendo che Giuntoli era assente. Non voglio partire con illazioni, con retropensieri di Giuntoli che è già via, che è stato messo da parte, perché sarò sincero, da quello che mi ricordo io, sia quando presentammo Spalletti, sia quando presentammo Gattuso, sia quando presentammo Ancelotti, e mi sembra anche quando presentammo Sarri, Giuntoli non era mai presente. Io ricordo che in quasi tutte queste conferenze presiedeva De Laurentiis, quindi non voglio lanciarmi in ipotesi, però per onore di cronaca, Giuntoli era assente. Oltre a De Laurentiis e a García era presente il direttore del museo di Capodimonte, dove si è tenuta la conferenza stampa, che mi soffermo su una frase che mi è piaciuta molto, ovvero ha definito García un artista, speriamo che sia così e che abbia ragione. Comunque, partendo con quelle che sono state le domande, gli chiedono che regali gli ha fatto, che regali gli ha promesso De Laurentiis, García risponde banalmente, ma non banalmente, quello di allenare il Napoli, di essere lì, di essere una squadra con delle ambizioni, una squadra con un progetto, con una rosa di qualità, e fissa già un obiettivo, che è mantenere l'orgoglio della squadra, l'orgoglio nella squadra di noi tifosi, che comunque quest'anno sfido chiunque a non essere stato orgoglioso dei ragazzi e del Napoli, l'obiettivo è di mantenere questo stato d'animo. Mi soffermerò molto poco sulle domande fatte a De Laurentiis, perché la conferenza stampa era di presentazione a García, tranne un paio di cose di De Laurentiis, poi non andrò oltre, per esempio una delle cose che ci tengo a sottolineare che ha detto De Laurentiis, alla prima domanda gli chiedono adesso, dopo lo scudetto, cosa si fa, e lui rilancia la sfida al campionato, l'obiettivo è ripetersi, si fa un po' il discorso che aveva fatto post-udinese, è un inizio del percorso, ora bisogna ripetersi, ripetersi, e poi c'è l'Europa e fa anche una battuta a un García dicendo «Ma tu sei arrivato in finale di Champions?» Lui gli dice «No mister, io sono arrivato in semifinale», e gli dice «Vabbè», si gira verso i giornalisti e gli dice «Ma perché a voi non piacerebbe, non dico vincerla, ma anche solo farvi una finale di Champions?» e lascia, diciamo così, mi ha sozzicato il presidente da questo punto di vista, speriamo che però leghi poi fatti a parole. García poi dice che si sono trovati lui e De Laurentiis subito, una cosa che poi sosterrà anche De Laurentiis più avanti, dicendo anche una bella frase, sostenendo che come se si fossero conosciuti da sempre, che penso che dal punto di vista umano sia molto bello quando due persone si incontrano nella prima volta ed è come se il rapporto fosse durato anni, quando in realtà si sta creando in quei momenti. Comunque García si dice sulla stessa lunghezza d'onda di De Laurentiis su quelle che sono le ambizioni, lui gioca per vincere, e ammette che la Champions, guarda De Laurentiis sorridendo, e dice «La Champions è una barra molto alta, fissata dal presidente, ma io voglio sognare, mister, vogliamo sognare anche noi». Gli chiedono una domanda abbastanza scontata, preoccupato se quali fossero le sue preoccupazioni nel raccogliere la panchina dopo Spalletti. Lui, la prima cosa che dice, già mi ha colpito molto e dimostra anche il carattere dell'uomo. «Non ho paura di niente», poi ci aggiunge solo della salute, e mi sembra giusto, un po' tutti dovremmo avere paura solo di quello, tenere solo a quello, e del resto dovremmo vivere tutti con un po' più di leggerezza molte situazioni che magari viviamo con un po' di ansia, ma non sono qui per fare psicoterapia, sono qui per parlare della conferenza stampa. E Garcia fa questa sparata, diciamo, che mi ha molto preso anche questa, perché lo ha detto anche, non lo so, mi ha trasmesso qualcosa quando l'ha detto. Non ha paura di niente Garcia, e speriamo che riesca a trasmettere questo anche alla squadra, che quest'anno ha avuto paura di poche cose, però quelle cose di cui ha avuto un po' paura non sono andate poi benissimo, quindi spero che riesca a levare anche quel po' di ansia che c'è stato a un certo punto quel po' di tremolio alle gambe, e mi riferisco soprattutto al periodo di aprile tra i quarti di Champions e poi l'ultimo gradino per lo scudetto che tra Salernità e Neodinese comunque non abbiamo visto un Napoli brillantissimo, però ci stava anche dal punto di vista fisico, o meglio, non ci stava dal punto di vista fisico. E comunque dicevo, non ha paura di niente, dice che quando ci sarà il ritiro comunque si ripartirà da zero, che i risultati si raggiungono con la fatica e formando il gruppo, sostiene più volte durante la conferenza stampa che questa squadra è un grande gruppo, perché se ha vinto vuol dire che è un grande gruppo, sostiene più volte che ha visto una squadra, e non dei singoli, che il Napoli corre, 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 e con lui deve continuare a correre e anche di più. E poi aggiunge che questa squadra ha una panchina e sarà molto importante per poter cambiare partite a gara in corso. E' fissa anche tecnicamente e tatticamente quali sono dei suoi punti fermi, ovvero un gioco offensivo, un gioco che a lui piace tenere il possesso della palla, gestire la partita, e vuole che i giocatori appena persa palla riaggrediscano, che è appunto un gioco offensivo, quindi molto bene. Questo vuol dire che continuiamo comunque sulla falsariga di Spalletti, e come abbiamo poi già analizzato nella presentazione di García nello scorso video, quando ho parlato anche dal punto di vista tattico dell'allenatore ex Lione e Marsiglia, che probabilmente questi sarebbero stati comunque i suoi dettami tattici, diciamo. Gli chiedono anche che cosa, che García è rispetto al García che sette anni fa lascia la Roma e lascia quindi l'Italia. Lui dice spero un García con più esperienza, è molto bello tornare, vuole scoprire la città, fa anche una battuta dicendo probabilmente metterò baffi finti, occhiali da sole e cappello e girerò per la città. Dice che è una parte molto bella di questo lavoro, una parte dura è quello di lasciare tante persone, quando lascia una squadra, lasciare la città, lasciare tante persone che hai conosciuto, ma è molto bello poi la parte bella di quel lavoro e comunque arrivare in una nuova città e poter quindi scoprire un nuovo contesto e conoscere nuove persone. Gli rifanno una domanda comunque simile a quella lì, la panchina è più bollente o più stimolante? Lui ovviamente dice più stimolante, il compito è alto, qui si deve vincere, quindi bene, e aggiunge che cambierà molto poco, ma aggiungendo la sua impronta, quindi dice che non metterà troppo le mani in questo impasto che il Napoli adora, però sicuramente aggiungerà qualcosa del suo, come giusto che sia, se no ci ritroviamo poi come con Ancelotti, meglio di no. Dice anche una cosa molto intelligente, perché poi gli chiedono dei moduli, il 433, lui riprende una domanda che era stata fatta a De Laurenti, se aveva parlato di questo, lui dice proprio il Presidente ha parlato poi del 433 e tutto, ma io ho fatto anche il 4231, ho giocato a volte con la difesa a tre, quindi ho cambiato spesso, ma l'importante è che i giocatori, e qui stavo veramente in un brodo di giugio, l'ero veramente felicissimo, dice che i giocatori devono avere cultura tattica, devono saper cambiare sistema a gara in corso, e bisogna avere non solo piano A, 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 ma bisogna avere anche il piano B, e il piano C, poi gli chiedono di nuovo cosa non va toccato, lui dice la voglia, questi giocatori devono dare di più, tutti possono migliorare, gli chiedono di Anghissà, che fatto sta che è l'unico giocatore Napoli che conosce che ha già allenato, lui dice che sia un po' il mio piccolo, nonostante sia molto grosso, perché lo ha lanciato, lo ha fatto esordire lui a Marsiglia, dice che è cresciuto molto, si aspetta molto da tutti, ma forse da lui qualcosina in più, e pensa che sia un uomo molto importante in campo e anche nello spogliatoio, quindi diciamo alza di molto la considerazione di Anghissà, chiedono poi chi parte, lui dice, aggira un po' la domanda e alla fine conclude dicendo fiducia nell'Aurentis e nello staff tecnico, in un'intervista a Balzaretti poi a, penso, De Maggio di Kiss Kiss Napoli gli chiede, ho parlato con Balzaretti e più parlavo con lui più ho capito che questa squadra è perfetta per te, lui dice spero di sì, basta alla fine dice il gruppo è unito, ribadisce sempre le stesse cose, gli chiedono se c'è un Gervigno nel Napoli, lui dice ci sono tanti giocatori forti come Gervigno e dice sarà io i giocatori ormai li conosco ma come li conosciamo un po' tutti tecnicamente io voglio andare a conoscere gli uomini, quindi bene, e qui abbiamo la bomba di De Laurentiis, Kim Meosimen, qual è il loro destino? Kim lo lascia proprio, lo mette da parte, il che non mi fa ben sperare, ma su Osimena non c'è il rinnovo, dice che stanno discutendo già dal da prima della festa a Scudetto, appena arrivata la matematica ne hanno iniziato a parlare e Osimena è d'accordo per rinnovare, un prolungamento di due anni quindi fino al 2027 e salvo offerte irrinunciabili però se arriva uno con 150 milioni con tutto il bene si vendiamolo perché veramente ci rifacciamo la squadra è anche bene, però salvo offerte proprio indecenti, Osimena resta a Napoli e questa è stata una grande notizia. Poi gli chiedono a Auriemma è una domanda che mi è piaciuta molto un confronto tra De Rossi e Lobotka e De Rossi era un uomo importante nel suo scacchiere alla Roma se Lobotka può ricoprire quel ruolo lui dice che sono tutti importanti che il cuore del suo gioco però è il centrocampo e che Lobotka è un giocatore fantastico dice che i centrocampisti per lui devono giocare e devono poi anche essere bravi a riaggredire poi gli fanno una domanda secondo me che si potevano anche risparmiare sugli slogan che ha messo Spalletti se lui ha intenzione di mettere degli slogan lui dice sì valori umiltà le cose importanti valori umiltà ambizione lavoro e rispettare la maglia che uno che può rispondere a una domanda del genere vabbè poi un'altra domanda assurda ma le teniamo le bandiere le stanno iniziando a togliere il barriere ma gliele facciamo tenere gli striscioni e le cose lui giustamente risponde ma non lo so vediamo il napoletano è orgoglioso e la sua squadra io sono venuto spesso qua a Napoli a giocare ed è difficile ma aggira un po' la domanda perché che domanda è questa vabbè e l'ultima domanda gli chiedono ma nello staff tecnico chi ti porti chi tiene lui dice terrò un po' tutti porterò tre miei uomini immagino il vice e gli altri due non lo so poi dovrebbero rimanere i preparatori atletici Sinatti non ricordo adesso il nome e l'altro dovrebbe rimanere il match analyst che lui ha incontrato già in passato infatti lo ha avuto già e lo ha elogiato molto lo ritiene molto molto bravo e dovrebbe rimanere poi il team manager quindi comunque l'ossatura e la squadra dovrebbe rimanere quella fanno una foto poi con la sciarpa e mi è piaciuto molto perché usano una sciarpa lui e Dell'Aurentis e se la mettono e lui subito prende la sciarpa e mostra la N del Napoli questo mi è piaciuto molto l'ho trovato molto simbolico e poi diciamo Dell'Aurentis prende una spilla del Napoli dice per buon augurio ti metto questa spilla mette la spilla e cade quindi vabbè spero che non sia un segno negativo che sia semplicemente una cosa simpatica da dire ma che poi non avrà ripercussioni sulla realtà comunque questo è Rudy Garcia adesso abbiamo detto io ho detto quello che pensavo fatemi sapere la vostra io sono sempre più convinto che questo sia un grande allenatore sia soprattutto un grande uomo forse è l'uomo perfetto per raccogliere l'eredità di Spalletti dal punto di vista umano penso che sia che sarà molto bravo nel gestire gruppo piazza e media e tecnicamente sospendo il giudizio l'analisi tattica l'abbiamo fatta nello scorso video qui ci ha detto qualcosina ma alla fine ne parleremo meglio al ritiro iniziato fatemi sapere cosa ne pensate forza Napoli sempre